Friufei a tutti, io sono Octi di Pura Fibra Italiana e in questo video non sono da solo perché con me c'è un po' di gente Tipo me Tu fuzzi Anche tu, ma va bene così Ok, questo è un video gameplay su Fortnite Bad Royale Che come sapete ogni venerdì ore 10 c'è un gameplay su Fortnite Bad Royale Quindi abbiamo deciso di fare una sfida un po' particolare Ossia fare una partita su Fortnite e vedere chi fa più kill Così ad una prima partita Quindi andiamo subito al gameplay Facciamo una città uguale per tutti Tipo salti Io sotto pressione muoio Allora beh, io ho anche la mia schien preferita La configurazione proprio tattica di questi giorni Sì sì, mi piace un sacco Fai wombo-pombo C'è la tipa con i caricatori dietro che sembra Lara Croft Mi ricordo proprio Lara Croft E poi il picco Ma che brutto cazzo del programma Sì beh, è originale Ma è della season 1 questa Qualsiasi cosa la season 1 è brutta ma Ma dio c***o Ma accidenti, non ci arrivo Mi sa che muoio già subito Guarda come Oh Dio, guarda la davanti Sono morto Spirito di pazzo Perché ha laggato? Oh Dio Non lo so Spirito di Gennarino Devi pregare a Gennarino Ma perché? Ma perché? Non i materiali Non ci voglio credere Non ci voglio credere Che botta di c***o dai C***o sei in giusto Dovrai muoverti in qualche modo per curarti Guarda'lo là sotto Bene Hai presente? Lo squalo Esatto Tan 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 person Non ciclione Tan 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 tan..? non ci posso credere. Ma dai, non ti ha beccato nemmeno per sbaglio. Eh, basta, adesso tu ti metti uno squadro. Io so che mi beccarò i pro con questi in abbastanza. Ci sono le bande lì. Ok. Ho visto. Una tensione palpabile. Tensione palpabile, attenzione. Oddio. Modifica? Grande. Mamma mia che tensione, ragazzi. Oddio. Oddio. Non ci posso credere. Trappoline non ne hai. Trappoline. Ti conviene darti una bella curatina. Sono morto. Lesto, lesto. Sono morto. No, se fai lesto ce la fai. Aia. Ma non vale. Io mi ho premuto per secondo perché sennò c'ho troppo l'ansia dell'ultimo player. Ok, ok. Mi metterete un sacco di pressione addosso allora. Eh, ma frai il migliore, quindi i migliori alla fine. Esatto. In ordine di... KD ho 57. Non ho preso le munizioni, accidenti. Qua stiamo camperando un po', eh. Eh, però tanto vince chi fa più kill, quindi anche se campero. Però è bello. Quanto sneaky. Dai. Dai. Nooo. Ma guarda che te lo fotte. Ma. Che sciacallo. Ma. Quando non hai materiale ma pusci con... Quella. Senza ritegno. Ma cosa? Otto. Incredibile, incredibile. Non ci posso. Oddio mio. Guarda. Double da parte. Non ci posso. Eh, però. Questa era da double da parte. Accelenti. Ah, guardalo là davanti. Eh, qui è una ciberbolina, altro che ci viene. L'ultimo. Oh, non so dove sei. Cacchio. Ui. Oddio. Oddio. Oh, il benessere. Ma mamma mia, tu sei. Pulito proprio. Shhh. Guarda, guarda lui. Ma cosa? Vabbè, due kill sempre. Manci, che so breve. Kill with an SMG. Eh, vabbè, l'Ele. Non ci credo. Non ci credo. Dai. No, anche l'Ele, no. Non ci credo. No. L'Ele è il muro. Io non ce la posso fare. Guarda che arma forte che hai. Ti prego di me che con la Q. No, l'Ele devo cambiarla. No. No. Guarda che arma forte che c'hai. Ma vinci. Arvesti in Tulelle. Per ora mi ammazza, cazzo. Accidenti qua. Io me ne vado da sta città del cavolo, altro che. Ah, ti senti anche di quelli pro che tipo non aprono il cesto delle munizioni? No, noi non lo sentiamo. con quella scala. Ah, ok. Ah, adesso mi è chiaro. Fanculo gli esplosivi. Ma no. Ma secondo me stracino un po' a cagare il nego. Ma gli esplosivi l'ho di nostro. Sì, anch'io. Primo fight muoio. Il problema è quanto glorioso sarà quel fight. Ui, è qua. Un buon trade. Guardalo lì. È un nabbo. È un nabbo. È un nabbo. È un nabbo. Sì, è un nabbo. Sì, è un nabbo. C'ha il P90, raga. Ah, e dai via il Thompson, sei pazzo. Cioè. No, tutta la vita. L'avrei fatto anche io, te lo giuro. Ah, zero munizioni. P90 ha rotto anche dopo il nerf. Comunque fa un macello di danni. Sì, chiaro, perché spari una vita. Io vorrei vedere. Ma vuoi ricaricarlo quel P90 o pure no? Grazie, ha le prestazioni. Non dovevo dirglielo, così moriremo. Ma guarda che siete già in 11. Ma com'è possibile? Questo ti pialla tipo appena ti vede. Non sa costruire. Sì, non ci posso credere. Non ci voglio credere. Luca, ma che vuota è il proprio che ha. Ma pushalo, non sa costruire. Il P90, perché non lo usi, scusa? Vada così lontano, mica. Beh, spacchi tutte le strutture. Sì, ma sì, ma così lontano, che senso ha? Ma guardalo. Ma, eh, vabbè, grazie che fa due kill così. Uh, guardalo però. Bloom, Bloom, Bloom. Che mira di merda. No, è il Bloom. Cioè, tira fuori quel P90. Guarda. Ma, Luca, ma qua ci stupisci. Quattro. 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 Quattro, mamma mia. Il pompa va proprio schifo. Ma tutti col P90. No, è dietro. Addio. 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 Luca, sciccogucin. Addio. Dove è la via? Guardalo là sopra. Dai, dai, dai. È una valore devi uccidere, è proprio il tuo peggior nemico. Sta aspettando proprio un momento adatto. Oh, mi è piaciuto quel build. Dai, dai, spara, putt' troia. Ma dove cazzo ha sparato prima? Madio, che mia, di merda. Ma perché tu premi? Ah, boh. P90, P90. Ma come si curano le cose? Eh, con la L penso, ma non... Io non curo, sai che io non curo. Dai, dai, dai. Vai, vai, che sta arrivando. Hai il tempo, hai il tempo. Buono. Tira fuori quel P90. No. Dov'è, dov'è Z? Sotto. Dai, che gli fai male quel P90. No. Due kill. Io distraggo così. Ok, perfetto. Eh, sarà un po' dura. Ok. Posso fare una cosa molto qualunquista? Io già vi dico che non costruirò tipo le piattaforme e devo schicciarci per quello. Beh, siamo tu. Anch'io sono morto perché uno mi aveva attaccato dopo un fight. Esatto, quindi non è giusto. Nei commenti scrivete Valore Cagna. Valore Cagna, perfetto. Scrivete tu di Valore Cagna. Senza hashtag, sennò vai nei commenti. Esatto, sennò non si vede il commento. Voi lo vedete, ma in realtà non c'è su YouTube. Ehi tu, se il video ti sta piacendo, considera l'idea di iscriverti a questo canale. Ma ricorda di attivare anche la campanella, così da non perderti altri video come questo qui. È semplicissimo e a te non costa proprio niente. Scusami se ti ho disturbato e adesso ti lascio al video. Ciao, ciao, ciao. Ah, guarda che... È dietro, è dietro, eh. Occhio dietro di te adesso. Oddio, come faccio a cranciarmi, come faccio a cranciarmi. Oddio, guardalo, guardalo là, guardalo là. Ok, di davanti. Ce n'hai uno anche lì. Ma perché tiri fuori la revolver? Lo sai che ce n'hai uno che tra un po' ti spunta in faccia? Ah, merda. Questo devi blu. Dai, bello deciso. BAM! Ancora uno. Buono! BAM! Lo scudo. BAM! Bravo! Blum. 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 Ma se è nampissimo. Se fai più kill di noi mi sparo nei tessi. Anche io. Guarda chiude anche la porta per sicurezza. Guarda come si piega anche lui, se non... Eh, ma cazzo, ma quello lì innanzitutto è sparito. Ma noi abbiamo power? Ma a voi non vi sembra, ma in realtà tu hai power. È vero, guarda che quelli vieni qua. Eh, cazzo. Guarda c'è la trappola. Trappola, trappola qui sotto. Se fai due kill di trappola vorrei dire. Ma dove... Come... Schiacci in mezzo. In mezzo. Ok. Aspetta che prendo il pompa inutile. Ormai non fa niente di danno, cioè. Vabbè, io prendo lo stesso. Fai prima ad accarezzarlo e il nemico... Oh, la pistola è per lontano o no? Oh, cavacca! Ah, zero kill qua. Non ci posso... No, vabbè, la rifaccio. No, aspetta, 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 aspetta. Una kill. Una kill. Bava al culo. Una kill fatta bene. Eh bene, basta, allora non devi rifarla. No, rifaccio. Ma sai che magari altra gente finisce, fa due kill e poi ne fa tre? Ti immagini? Mamma mia. Dovevo stare lì a aspettare, basta. Dovevi rimanere. Sì, allora. Non mi convince. Vediamo cosa fa fra. Dai. Fra è capace di perdere con la mia taglietta contro uno che ha il piccolo, secondo me. Mamma mia, lascia perdere. No, vabbè, l'arma che porta il gioco se non fa kill adesso. Questa è rotta. Questa sono due kill. Ma perché giri con... Ma perché camperi? Sì, infatti. Ma perché stavo per sparare? Lui pensa che le kill vengano da solo e si è dimenticato che la trappola non conta più. Oddio, no, dai. Ma perché rientri nella stessa casa? Perché qui ci potrebbe essere della roba tipo questa! Eh, vabbè, ma così è ovvio che fa 7 kill. È avvantaggiato. Tanto muore subito, un pompa in testa, fine. Quando userai mai quale R grigio avendo il vino e il Thompson? Da lontano il Thompson fa creare. Però, sì, infatti, ma... Tu prima consigliavi di usare il P90 a distante 7 metri. Ah, beh, per fare giù le strutture. Ma che senso ha se tanto le ricostruivo? Ma... A me piace che fa la solta in mezzo alla strada. Cioè, io... Che poi sta tipo si sta vagando qua. Vedi che sta staggiantando? Esatto. Ma tutti in habit? Cioè, ma... Ma cos'è? Vai, vai, vai. Ma cos'è? Ma questo po' però non ha proprio neanche sparato. Ma guarda che armi che ha questo, cioè... Fra, quanto l'hai pagato? Ma lascia via il cinto della caccia che non userai mai. Guarda che l'altro giorno ho fatto un... Un coso... Ah, ma guarda che l'altro giorno ho fatto... Tipo, Fra, è uno di quelli che dice... Siccome ieri ho vinto il gratta e vinci, allora mi spendo 7 milioni in gratta e vinci. Spendo 7 milioni e vinco ancora, poi perdo male. Sì, 5 euro, tipo... Una volta son caduto su un impulso e ho fatto una kill di team. A casa. Ma come ha fatto a fare 300 di legno? Ma tu le devi salutare. Eh, le casette. Ah, io no. Cazzo, ho fatto solo quello. Ne mancano 30, assolutamente. Sì, aspetti. Ah, ma c'è un amico... Porca vacca, lì dov'è? Che state dicendo, scema? Signori, dove siete? Vi prego, fatevi vedere un po'. Venite qui un pochino. Non vergognatevi. Vi do una piccola carezzina. Se anche il prossimo che trovi è Nabbo, penitenza, bisogna schiacciare alta F4. No, ma abbiamo trovato un Nabbo a testa, a dire il vero. O no? No, io non li ho trovati. Eh, no, erano immobili. Ma stai zitto, che uno ha il P90. Voleva sparare al nostro Gesù Pazzo. Ricordi quando camperavamo sugli alberi? Che bei tempi. Quando dicevamo, bene, ora stiamo tutto il tempo qua. Qualche volta facciamo la 3 challenge. Ah, ecco. Nabbo senza skin. Guarda che costruzioni. Bestia. Accidenti. È finita, è finita. Non se ne ha tirato una più. Lascia via quello Scaracca, il P90. Ma che cosa stai facendo? Senti i piani, così prendi più danno da capire. Eh, va bene, raga. No, è finita. Ma è bello che non spara, costruisce. Eh, ma perché, ma perché? Ti ho fatto la missione. Ti ho fatto la missione. Non del tutto. Tira fuori quel P90. Respira, respira e guarda. Ah, eccolo. Eh, vabbè, c'è ora. Bellissimo. Ehi, tasti. Perché io istintivamente... È vero, no, ma è vero. È un... E' su Spotify. Ah, guarda, allora... Hai pagato Spotify quest'anno? No, io non uso Spotify. Ok, l'hai freccato, io lo so. Guarda che adesso muore per vedere che è Nabbo. Ma vediamo... Qua c'è 4Kibber. Ma cosa Nabbo? Lo vedi che è pro questo? Guarda, così c'è a caso per muoversi. Si, no, è vero. Anche oggi ringraziamo la pure Fibrile della Nassarunca. Grazie mille per essere iscritti. Noi siamo già in 159.000 e che lasciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questa sfida e se volete vedere altre sfide simile insieme a Luca e Fradis e Cucugin che dovete passare in descrizione perché c'è il loro canale. Iscrivetevi soprattutto. Condividete il video con i vostri amici lasciate un piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!